musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi nel video di oggi tutte le novità delle ultime ore di fortnite vedremo un bug molto particolare che sta succedendo per lo stile di tina ma anche un'altra roba davvero davvero molto interessante prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del video delle 13 e 30 e insieme al bug di tina voglio parlare anche dei camion fanta slurp una roba un po strana che sta capitando in game vi sarà successa sicuramente e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre sempre aggiornati ma prima la domandina lo sapete che ci tengo tantissimo a farvela grazie per tutti i commenti che lasciate sempre qua sotto ed è una domanda più che scontata ma te quale stile sceglierai di tina lo stile degli spettri o lo stile dei fantasmi dai sono belle veramente tutte e due io sono molto molto indeciso penso che andrò sugli spettri devo ancora un attimo vederle bene anche perché le sfide erano davvero particolari fammi sapere quella che sceglierai tu qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a parlare del primo argomento di oggi vi ricordo ultimo giorno per tutti quelli che utilizzano il controller su pc per avere la disponibilità di usare la legacy quindi quella funzione che ti permette di avere un aiuto in più quando vai a mirare un nemico c'è stata una diatriba incredibile in questi giorni ne abbiamo parlato ampiamente in altri video abbiamo letto tutte le varie lamenteli che hanno fatto gli streamer i giocatori, i pro player ed Epic Games effettivamente ha preso questa decisione che dovrebbe in qualche modo ribilanciare un pochettino il game quindi utilizzerete per chi gioca da pad solamente la mira lineare non viene assolutamente toccato nulla per i giocatori di console vi ricordo questa è una cosa che si tratta solo di chi utilizza il pad su pc e siamo già ragazzi al nuovo argomento a di il cosa è ufficiale l'E3 di Los Angeles è stato sospeso ovviamente il team dell'E3 dicono sopra tradotto in italiano è stato devastato da questa notizia la decisione non è stata chiara subito ma abbiamo deciso ovviamente per la sicurezza di tutti i nostri fan di tutte le persone che partecipano di sospendere uno degli eventi più importanti al mondo se non il più importante per quanto riguarda la videoludica e infatti il messaggio ufficiale dice dopo una consultazione molto attenta con i nostri membri, con le nostre compagnie, con i nostri sponsor abbiamo deciso di cancellare l'E3 2020 addirittura già programmato dall'anno scorso dal 9 all'11 giugno a Los Angeles quindi si pensa ragazzi anche che questa notizia sia davvero importante per quanto riguarda ovviamente il di infondersi di questo Covid-19 ne approfitto due secondi raga per ricordarvi una cosa importantissima non uscite non uscite di casa lasciamo perdere che scherzo quando siamo in live sulla piattaforma Viola non uscite guardate lo Xudra non sto parlando in questo modo sto dicendo veramente evitiamo il più possibile di uscire soprattutto ragazzi non andate a trovare i nonni so che è dispiacevole anche io sono tantissimo che non vedo la mia ma non fatelo dobbiamo un attimo abituarci in questi giorni a questa cosa dobbiamo vedere come si evolverà la situazione mi raccomando lavatevi sempre sempre le mani non toccatevi la bocca gli occhi non mettetele se siete sicuri se non siete sicuri che siano super pulite ma se potete evitarlo fatelo mi raccomando mi raccomando mi raccomando ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento si parla ancora ovviamente ma di un update per quanto riguarda Discord una cosa importante interessante se per caso utilizzate videoconferenze su Discord per un periodo limitato di tempo utilizzeranno una nuova funzione quindi il multi stream delle chat su Discord sarà esteso da 10 persone contemporaneamente fino a 50 questo ovviamente è un piccolo gesto un piccolo passo che fa appunto il software di Discord per dare la possibilità a più persone contemporaneamente di riunirsi e di parlare in maniera virtuale e andiamo avanti ragazzi ed ecco una notizia molto molto interessante forse è passato un po' inosservata ma ieri è stato l'anniversario dell'arrivo delle girosfere in game tanta tanta roba ce le ricordiamo tutti io ci sono stato particolarmente affezionato per quanto riguarda le qualifiche alla Lega Campioni girosfere che sono stati secondo me è il veicolo più incredibile di Fortnite il più pazzesco il più particolare il più strano anche il più discusso perché dai vedevamo gli endgame delle delle arene che c'erano 17 girosfere e uno stronzo che correva intorno perché era l'unico che non l'aveva preso quindi tanta tanta roba anche un bel ricordo un bel sorriso ed ecco invece ragazzi una cosa molto più interessante la mappa ufficiale completa per come svolgere le sfide uscite ieri per TNT Tina non erano proprio sfide difficilissime ma erano sfide abbastanza lunghe e alcune particolari ci sono un paio di trucchetti il primo ragazzi se dovete per caso prendere i due le due armi dei boss potete andare allo squalo perché proprio lì infatti ne troverete due il rampino e minghia non me lo ricordo la Thompson no la Thompson c'è la mida all'agenzia comunque il fucile di Sky tanta roba andare lì e un consiglio per andare invece a fare la sfida quella degli scagnozzi dove dovete fare un check una scansione dello scagnozzo potete andare nella casetta che c'è tra sabbie sudate e il laghetto è molto molto isolata è molto comoda se voi vi avvicinate riuscite con il paracadute con il deltaplano ad arrivare a dove vedrete dei legni incastrati lì c'è un forziere e un'arma entrate poi più avanti prima della casa nella cabina telefonica questo vi permetterà di entrare andare subito sotto ci sarà un unico scagnozzo un colpo in faccia una mitragliata lo fate scansionare e lo fate in tre volte subito 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 ovviamente ragazzi poi tutte le altre cose non sono affatto difficili vi ricordo che poi per la selezione ho fatto vedere la posizione esatta delle cassette delle lettere a foschi fumaioli sia per quanto riguarda gli spettri sia per quanto riguarda le ombre molto semplice vi ricordo che una volta presi i piani dovrete imbucarli per far sì che la vostra scelta sia confermata e c'è una roba molto particolare che è successa ad un ragazzo di ps4 che dice ve lo traduco di già oh ragazzi è successo un glitch nella selezione dello stile delle sfide di Tina all'inizio ho scelto le ombre solo che dopo mi ha dato anche il secondo stile e abbiamo la conversazione di questo ragazzo che parla con un leakers il leakers si chiede hello hidropsia che passaggi hai fatto esattamente per avere il bug di Tina ma io dice io just randomly a caso ho avuto l'opzione per cliccare in entrambe le cose lui dice è pazza è incredibile questa cosa pensavo che fosse un bug ma in realtà me le hanno date tutte e due quindi ragazzi per caso se avete la ps4 potrebbe anche voi dare questa possibilità e abbiamo pure le foto del tizio che ci ha dato come vedete prima lui ha scelto lo stile shadow e infatti gli ha dato Tina in versione ombre e poi gli ha dato anche quella in versione fantasmi insomma ragazzi non c'è che dire come sempre il nostro bug knight non ci delude insomma ragazzi l'unica grande pecca è che non è arrivata la pace in questa settimana non sappiamo bene cosa fare dovremmo aspettare ancora un pochettino io cerco sempre di dirvi tutte le news in tempo reale vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao